Grazie ai fondi dell'Otto per Mille, l'Arcidioce Sidi Trani ha previsto un contributo di quasi 300.000 euro per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Le richieste di aiuto potranno essere rivolte ai sacerdoti delle parrocchie cittadine. Ascoltiamo le parole dell'Arcivescovo Monsignor Leonardo Dascenzo. Ancora una volta attraverso il fondo straordinario messo a disposizione dalla conferenza episcopale italiana, tingendo dai fondi 8 per Mille, abbiamo potuto beneficiare di un contributo di 270.000 euro. Come Chiesa Diocesana abbiamo pensato di renderlo disponibile per tutte quelle situazioni di difficoltà, di povertà causate dalla pandemia purtroppo ancora in corso. Allora abbiamo così suddiviso 100.000 euro per il fondo Talitacum, a vantaggio delle persone che avessero perso il lavoro a motivo della pandemia, 50.000 euro a sostegno dell'opera delle Caritas e della Caritas Diocesana, e 120.000 euro infine a disposizione per le situazioni di difficoltà delle parrocchie, dei vari enti e delle famiglie o persone che si trovano in difficoltà nel fare la spesa, nel pagare le bollette, nel portare avanti quello che è il quotidiano. Le persone in difficoltà, singole, coppie o famiglie, potranno rivolgere la loro richiesta al parroco che provvederà a raccogliere un minimo di documentazione che servirà per l'occasione, accompagnandola poi con una sua lettera. Tutto questo verrà poi raccolto dall'ufficio e dal suo direttore della pastorale sociale e del lavoro, che insieme ad una commissione appositamente istituita provvederanno poi a valutare tutte le domande e tutte le richieste.